33. Swan aveva evitato di farlo il più a lungo possibile, ma adesso, mentre usciva dall'acqua meravigliosamente calda della vasca da bagno, lasciandola di un marrone torbido pieno di pelle morta e l'erciume, e afferrando il grande asciugamano che le aveva preparato Leonas Kelton, doveva farlo. Doveva. Guardò nello specchio. La luce proveniva da un'unica lanterna con lo stoppino abbassato, ma era sufficiente. Swan guardò nella lastra ovale sopra il lavandino e pensò che stava guardando qualcuno che indossava una grottesca maschera di Halloween senza capelli. Una mano si sollevò verso le labbra e la terribile immagine fece lo stesso. Dal volto le pendevano brandelli di pelle che venivano via come la corteccia di un albero. C'erano segni marroni incrostati sulla fronte e sull'attaccatura del naso, e le sue sopracciglia, una volta così bionde e folte, erano state completamente bruciate. Le sue labbra erano screpolate come la terra arida, e i suoi occhi sembravano essere affondati in due buchi scuri nel suo cranio. Sulla guancia destra aveva due piccole verruche e altre tre sulle sue labbra. Aveva visto quelle stesse cose simili a verruche sulla fronte di Josh, aveva visto le ustioni marroni sul suo volto e le chiazze grigie e bianche sulla sua pelle, ma si era abituata all'aspetto dell'uomo. Vedere se stessa con della peluria ispida dove c'erano stati i suoi capelli e con la pelle bianca morta che le pendeva dal volto scatenò lacrime di shock e orrore. Si spaventò per un bussare gentile alla porta del bagno. «Suan, stai bene, bambina?» chiese Liona Skelton. «Sì, signora», rispose lei, ma la sua voce era incerta e sapeva che la donna l'aveva avvertito. Dopo una pausa, Liona disse «Ho qualcosa da mangiare per te quando sarai pronta». Suan la ringraziò e disse che sarebbe uscita tra qualche minuto e Liona se ne andò. Il mostro con la maschera da Halloween la guardò dallo specchio. Aveva lasciato i suoi vestiti luridi a Liona che aveva detto che avrebbe provato a lavarli in una pentola e ad asciugarli davanti al fuoco e così si avvolse nell'accappatoio con motivo scozzese della taglia da ragazzo e si infilò gli spessi calzini bianchi che Liona le aveva lasciato. L'accappatoio faceva parte di un baule pieno di abiti che erano appartenuti al figlio della donna, Joe, che adesso, aveva detto lei con orgoglio, viveva a Kansas City con una famiglia tutta sua ed era il direttore di un supermercato. «Avevo intenzione di gettare quel baule», aveva detto Liona a suone Josh. «Ma per qualche ragione non sono mai riuscita a convincermi a farlo». Il corpo di suon era pulito. Il sapone che aveva usato aveva il profumo dei lilla e lei pensò con nostalgia i suoi giardini pieni di colore sotto il sole. Uscito piccando dal bagno, lasciando accesa una lanterna perché Josh potesse vedere mentre faceva il bagno. La casa era fredda e si diresse direttamente al camino per scaldarsi di nuovo. Josh dormiva per terra, sotto una coperta rossa e con la testa su un cuscino. Accanto alla sua testa c'era un vassoio con sopra una ciotola vuota e una tazza e qualche briciola di muffin di Gran Turco. La coperta gli era caduta dalla spalla e suon si chinò e gliela sistemò sotto il mento. «Mi ha raccontato come vi siete incontrati», disse Liona a bassa voce per non disturbare Josh. Lui però stava dormendo così profondamente che dubitava che si sarebbe svegliato anche se un furgone fosse passato attraverso la parete. Entrò nella stanza dalla cucina, portando a suono un vassoio con una ciotola di zuppa di verdure tiepida, una tazza di acqua del pozzo e tre muffin di Gran Turco. Suon lo prese e si sedette davanti al camino. La casa era silenziosa. Davis Kelton stava dormendo e, tranne per l'occasionale folata di vento sul tetto, l'unico suono era il crepitio delle bracci e il ticchettio dell'orologio a molla sulla mensola del camino, che indicava che erano le otto e quaranta. Liona si accomodò su una poltrona coperta da un tessuto vistosamente decorato con motivi floreali. Le sue ginocchia scricchiolarono, fece una smorfia e se le strofinò con mani ossute e macchiate dall'età. «Alle ossa vecchie piace parlare», disse. Annui verso il gigante addormentato. «Dice che sei una bambina molto coraggiosa, che una volta che hai preso una decisione e non ti arrendi». «È così?» Suon non sapeva cosa dire. Si strinse nelle spalle, masticando un pezzo di muffin duro come la roccia. «Beh, è quello che mi ha detto. Ed è una cosa buona avere una mente forte, specialmente in tempi come questi». Il suo sguardo scivolò oltre la bambina e verso la finestra. «Tutto è cambiato adesso. Tutto quello che c'era è scomparso. Io lo so». I suoi occhi si strinsero. «Riesco a sentire una voce oscura in quel vento», disse. «Dice tutto mio, tutto mio». Immagino che non siano rimaste moltissime persone là fuori. Mi dispiace dirlo. «Forse tutto il mondo è proprio come Sullivan. Spazzato via, cambiato, in procinto di trasformarsi in qualcosa di diverso da quello che era prima». «Per esempio in cosa?» chiese Suon. «Chi lo sa?» Liona fece spallucce. «No, il mondo non finirà. È la cosa che pensavo all'inizio. Ma anche il mondo ha una mente forte». Alzò un dito ossuto per dare enfasi alla cosa. «Anche se tutte le persone, in tutte le città, grandi e piccole, morissero, e se tutti gli alberi e le coltivazioni diventassero nere, e se le nuvole non permettessero al sole di splendere mai più, il mondo continuerebbe a girare». «Oh, Dio ha dato una bella spinta a questo mondo, davvero, e ha anche messo menti e anime molto forti in un sacco di persone. Persone come te, magari. È come il tuo amico lì». Suon pensò di sentire un cane abbaiare. Era un suono incerto, che si era udito per alcuni secondi e poi era stato mascherato dal vento. La bambina si alzò, guardò fuori da una finestra e poi da un'altra, ma non riusciva a vedere granché. «Ha sentito abbaiare un cane?» «Eh? No, ma probabilmente tu sì. I randaggi passano in città in continuazione alla ricerca di cibo. A volte lascio delle briciole e una ciotola d'acqua sui gradini del portico». Si occupò di sistemare la nuova legna nel camino, in modo che prendesse fuoco tra le braci. Suon beve un altro sorso dalla sua tazza d'acqua e decise che i suoi denti non potevano vincere la battaglia con i muffin. Ne prese uno e disse «Va bene se porto là fuori quest'acqua e il muffin?» «Certo, fai pure. Immagino che anche i randaggi debbano mangiare. Sta' attenta che il vento non ti porti via, però». Suon portò il muffin e la tazza d'acqua sui gradini del portico. Il vento era più forte di quanto era stato durante il giorno, spingendo ondate di polvere davanti a sé. Con l'accappatoio che le svolazzava intorno, appoggiò il cibo e l'acqua su uno dei gradini più bassi e guardò in tutte le direzioni, schermandosi gli occhi contro la polvere. Non c'era segno di un cane. Ritornò al punto in cui c'era stata la porta a Zanzariera e vi si fermò per qualche istante. E stava proprio per rientrare quando pensò di aver visto un movimento furtivo sulla destra. Attese e iniziò a tremare. Alla fine si avvicinò una piccola sagoma grigia. Il piccolo terrier si fermò a tre metri dal portico e annusò il suolo con il muso peloso. Poi odorò l'aria, tentando di individuare l'odore di suon. Il vento soffiava nella sua pelliccia corta e polverosa. E poi l'animale alzò lo sguardo verso suon e tremò. La bambina sentì una profonda fitta di pietà per la creatura. Non c'era modo di sapere da dove il cane fosse arrivato. Era spaventato e non voleva avvicinarsi al cibo, anche se suon si trovava in cima alle scale. All'improvviso il cane si voltò e sfrecciò nell'oscurità. Suon comprese. Non si fidava più degli esseri umani. Lasciò il cibo e l'acqua e rientrò in casa. Il fuoco stava bruciando allegramente. Liona era ferma davanti e si scaldava le mani. Sotto la coperta Josh scalciò e russò più forte. Poi si calmò di nuovo. «Hai visto il cane?» chiese Liona. «Sì, signora. Non ha voluto avvicinarsi al cibo mentre io ero lì, comunque. Immaginavo. Probabilmente ha anche lui il suo orgoglio, no?» Si voltò verso suon. Una figura rotonda circondata da un bagliore arancione. E la bambina dovette farle una domanda che le era venuta in mente mentre faceva il bagno. «Non voglio che le sembri una domanda maleducata, ma lei è una strega?» Liona fece una risata rauca. «Dici quello che pensi? Non è così, bambina? Beh, è una buona cosa. È una cosa fin troppo rara di questi tempi». Suon non parlò, in attesa di altro. Quando non arrivò nulla, Suon disse «I vorrei ancora saperlo». «Lo è. Mia mamma era solita dire che chiunque avesse la seconda vista o potesse prevedere il futuro doveva essere malvagio perché quelle cose arrivano da Satana». «È questo che diceva? Beh, non so se posso definirmi una strega o no. Forse lo sono, sai per questo. E sarò la prima a dirti che non tutto quello che vedo sia vera. In effetti, per essere una veggente ho un punteggio piuttosto basso. Immagino che la vita sia come uno di quei grandi puzzle che devi ricostruire e non riesci a capire come. Devi affrontarlo un pezzo per volta. Provi a inserire pezzi sbagliati nei posti in cui non sono adatti e ti stanchi così tanto che non vuoi fare altro che abbassare la testa e piangere». Si strinse nelle spalle. «Non dico che il puzzle sia già ricomposto, ma forse io ho il dono di vedere qual è il prossimo pezzo adatto. Non ogni volta, attenzione. Solo ogni tanto quando quel determinato pezzo è davvero importante. Immagino che Satana vorrebbe sparpagliare tutti quei pezzi, bruciarli e distruggerli. Non credo che al vecchio satanasso piacerebbe vedere il puzzle tutto preciso, pulito e bello. Tu che dici?» «No», concordò lei. «Credo di no». «Bambina, vorrei mostrarti qualcosa, se ti va bene». «Suona a noi». Liona prese una delle lampade e indicò alla bambina di seguirla. Camminarono lungo un corridoio, superarono la porta chiusa dietro cui dormiva Davy e andarono a un'altra porta alla fine del corridoio. Liona l'apri e condusse suoni in una piccola stanza rivestita di pannelli di pino, piena di librerie e libri, con al centro un tavolo da carte quadrato e quattro sedie. Sul tavolo c'era una tavola Ouija e sotto il tavolo, dipinta sul pavimento. C'era una stella a cinque punte di molti colori. «Che cos'è quello?» chiese Suon, indicando il disegno quando la lanterna lo rivelò. «Si chiama pentacolo. È un segno magico che deve attirare spiriti buoni e utili». «Spiriti? Intendi fantasmi?» «No, sono sensazioni ed emozioni buone e cose così». «Non sono del tutto certa. Ho ordinato il modello da una pubblicità nella rivista Fate e non è arrivato con molte informazioni aggiuntive». Appoggiò la lanterna sul tavolo. «Comunque questa è la mia stanza delle visioni. Porto... portavo qui i miei clienti per leggere per loro la sfera di cristallo o la tavola Ouija, per cui immagino che sia anche un po' il mio ufficio». «Intende che guadagnava dei soldi così?» «Certo, perché no? È un modo decente di guadagnarsi da vivere. Inoltre tutti vogliono sapere qualcosa sul loro argomento preferito, loro stessi». Rise e alla luce della lanterna i suoi denti scintillarono argentei. «Guarda qua». Si abbassò e allungò una mano accanto a una delle librerie e ne tirò fuori un pezzo di legno contorto che sembrava un rametto sottile, lungo poco meno di un metro, con due rami più piccoli che spuntavano ad angoli opposti da una estremità. «Questo è Crybaby», disse Liona. «La mia vera fonte di guadagno». A suono sembrò altro che uno strano vecchio bastone. «Quella cosa? Come? Hai mai sentito parlare di un bastone da rabdomante? Questo è il migliore che potresti mai desiderare, bambina. Il vecchio Crybaby si piegherà e oscillerà sopra una pozzanghera a trenta metri sotto la roccia solida. L'ho trovato in un mercatino delle pulci nel 1968 e Crybaby ha fatto sgorgare cinquanta pozzi in tutta questa zona. Anche il mio, sul retro. Ho trovato l'acqua più pulita che potresti mai sperare di farti scorrere sulla lingua. Oh, lo adoro questo piccoletto!» Gli diede un bacio schioccante e lo rimise al suo posto. Poi il suo sguardo scintillante e malizioso tornò su Suon. «Che ne dici se ti leggo il futuro?» «Non lo so», rispose lei a disagio. «Ma non ti piacerebbe? Magari solo un po'. O, intendo, per divertimento, nulla di più». Suon si strinse nelle spalle, ancora non convinta. «Tu mi interessi, bambina», le disse Liona. «Dopo quello che Josh mi ha raccontato di te e dopo quello che entrambi avete passato, vorrei dare una sbirciatina a quel vecchio puzzle. Non vorresti anche tu?» Suon si chiese se Josh le avesse raccontato dell'ordine di Popo e dell'erba che era cresciuta dove lei aveva dormito. «Sicuramente no», pensò. «Non conoscevano Liona e Skelton abbastanza bene per rivelarle cose segrete». «Oppure, pensò Suon, se la donna era una strega, buona o cattiva, forse in qualche modo già lo sapeva, o almeno intuiva che c'era qualcosa di strano nella storia di Josh». «Come lo farebbe?» chiese Suon. «Con una di quelle sfere di cristallo o con la tavoletta lì sul tavolo?» «No, non penso. Queste hanno la loro utilità, ma lo farei con queste». Ed estrasse una scatola di legno inciso da un punto su uno dei ripiani e si diresse al tavolo dove la luce era più forte. Spinse di lato la tavola uigia, appoggiò la scatola e l'aprì. L'interno era foderato di velluto viola e Liona ne estrasse un mazzo di carte. Voltò il mazzo a faccia in su e con una mano le allargò perché Suon le vedesse e la bambina trattenne il fiato. Sulle carte c'erano immagini strane e potenti. Spade, bastoni, coppe e pentacoli come quello dipinto sul pavimento, tutti gli oggetti in numeri assortiti su ciascuna carta e presentati sopra a strani disegni che Suon non riuscì a decifrare. Tre spade che infilzavano un cuore o otto bastoni che volavano in un cielo blu. Ma su alcune delle altre carte c'erano disegni di persone. Un vecchio con una veste grigia, la testa china, un bastone in una mano e nell'altra una brillante stella a sei punte in una lanterna. Due figure nude, un uomo e una donna, a volte l'una intorno all'altra a formare una persona unica. Un cavaliere con un'armatura rossa fiammante, su un cavallo che sputava fuoco e con gli zoccoli che creavano scintille mentre avanzava e molte altre figure magiche. Ma quello che faceva prendere loro vita erano i colori utilizzati sulle carte. Verde smeraldo, il rosso di mille fuochi, oro scintillante e argento luccicante, blu scuro e nero mezzanotte, bianco perla e il giallo di un sole di mezz'estate. Immerse in quei colori, le figure sembravano muoversi e respirare, compiendo qualsiasi azione in cui erano impegnate. Swan non aveva mai visto delle carte simili prima e i suoi occhi non riuscivano ad averne abbastanza. «Si chiamano tarocchi», disse Liona. «Questo mazzo risale agli anni venti e ogni colore è stato applicato dalla mano di una persona». «Non sono grandiose?» «Sì», sussurrò Swan. «Oh, sì». «Siediti lì, bambino». Liona toccò una delle sedie. «E vediamo cosa riusciamo a vedere. Va bene?» Swan esitò ancora incerta, ma era incantata dalle bellissime e misteriose figure su quelle carte magiche. Guardò in faccia Liona Skelton e poi scivolò sulla sedia, come se fosse stata creata solo per lei. Liona si sedette sulla sedia di fronte a lei e spostò la lanterna sulla destra. «Faremo una cosa che si chiama Grande Croce. È un modo ricercato di sistemare le carte, perché raccontino una storia. Potrebbe non essere una storia facile, ma le carte si collegheranno una sopra l'altra, un po' come quel puzzle di cui parlavamo». «Sei pronta?» Swan annui, con il cuore che iniziò a battere più forte. Il vento ululava e fischiava all'esterno, e per un istante Swan pensò di sentire una voce oscura in esso. Liona sorrise e passò in rassegna le carte, cercandone una in particolare. La trovò e la in alto per mostrarla a Swan. «Questa rappresenterà te, e le altre carte vi costruiranno una storia intorno». Mise la carta sul tavolo davanti a Swan. Aveva una decorazione dorata e rossa, e mostrava l'immagine di un giovane con un lungo mantello dorato e un cappello con una piuma rossa, che teneva un bastone davanti a sé, intorno a cui erano avvolti rampicanti verdi. «Questo è il fante di bastoni! Un bambino che ha ancora molta strada da fare!» Spinse il resto delle carte verso Swan. «Puoi mescolarle?» Swan non sapeva come mescolare le carte, e scosse la testa. «Beh, allora sparpagliale e mischiale soltanto. Mischiale molto bene, di qua e di là. E mentre lo fai, pensa molto intensamente. A dove sei stata? A chi sei? E a dove vuoi andare?» Swan fece come richiesto, e le carte scivolarono in tutte le direzioni, con le facce premute sul tavolo e solo i loro dorsi dorati in vista. Si concentrò sulle cose che Liona aveva menzionato, pensò più intensamente possibile, anche se il rumore del vento continuava a provare a distrarla, e alla fine Liona disse «Va bene così, adesso rimettile insieme in un mazzo a faccia in giù, in qualsiasi ordine preferisci. Poi taglia il mazzo in tre pile e mettile sulla tua sinistra». Quando finì, Liona si allungò, tendendo la mano con grazia nella serena luce arancione, e raccolse ciascuna pila per riformare di nuovo un mazzo. «Adesso iniziamo quella storia», disse. Mise la prima carta a faccia in su, direttamente sul fante di bastoni. «Questo ti copre», disse. Era una grande ruota dorata, con figure di uomini e donne al posto dei raggi, alcuni con espressioni di gioia in cima alla ruota, e altri, nella parte inferiore, che si tenevano le mani sul volto, disperate. «La ruota della fortuna, che gira sempre, portando il cambiamento e rivelando il fato. Questa è l'atmosfera in cui ti trovi. Forse ci sono cose che si muovono e ruotano intorno a te, di cui ancora non sai nulla». La carta successiva fu messa di traverso sulla ruota della fortuna. «Questo ti incrocia», disse Liona, «e rappresenta le forze che si oppongono a te». I suoi occhi si strinsero. «Oh signora». La carta, decorata di nero e argento, mostrava una figura quasi interamente avvolta in un mantello e un cappuccio neri, tranne per un volto bianco, simile a una maschera ghignante. I suoi occhi erano d'argento. Ma c'era un terzo occhio scarlatto sulla sua fronte. In cima alla carta, sopra una pergamena disegnata, c'era un'intricata scritta che diceva «Il diavolo», disse Liona. «Distruzione scatenata, crudeltà. Nevi stare in guardia e fare attenzione, bambina». Prima che Suon potesse chiedere di quella carta, che le fece venire un brivido, Liona posizionò la successiva sopra le altre due. «Questo ti incorona e dice cosa cerchi. L'asso di coppe, pace e bellezza, desiderio di comprensione». «Ma quella non sono proprio io», disse Suon, imbarazzata. «Magari non ancora, ma magari un giorno sì». La carta successiva fu posizionata sotto il diavolo dall'aspetto odioso. «Questa è sotto di te e racconta la storia di quello che hai passato per arrivare dove sei». La carta mostrava il sole giallo brillante, ma era capovolta. «Il sole in quella posizione rappresenta solitudine, incertezza, la perdita di qualcuno, forse anche la perdita di una parte di te, la morte dell'innocenza». Liona guardò rapidamente in alto e poi di nuovo le carte. La carta successiva, la quinta che Liona aveva preso dal mazzo mescolato, fu collocata alla sinistra di quella del diavolo. «Questo è alle tue spalle, un'influenza che scompare». Era il vecchio che portava una stella in una lanterna, ma anche questa era capovolta. «L'eremita. Capovolto significa ritiro, nascondersi, dimenticare le tue responsabilità. Tutte queste cose stanno scomparendo. Stai andando nel mondo, per il meglio o per il peggio». La sesta carta andò alla destra del diavolo. «Questo è davanti a te e predice ciò che arriverà». Liona esaminò la carta con interesse. Questa mostrava un giovane in armatura cremisi, che teneva in alto una spada mentre un castello bruciava sullo sfondo. «Il giovane è ragazza o un ragazzo che brama il potere, che vive per esso, che ne ha bisogno come di cibo e acqua. Anche il diavolo guarda in quella direzione. Può darsi che ci sia un qualche tipo di collegamento tra di loro. Comunque, questo è qualcuno che potresti incontrare, qualcuno di molto astuto e forse anche pericoloso». Prima che potesse girare la carta successiva, una voce arrivò attraverso il corridoio. «Liona! Liona!» Dave iniziò a tossire violentemente, quasi soffocando, e all'istante la donna appoggiò le carte e corse fuori dalla stanza. Suon si alzò. La carta del diavolo. Un uomo con un occhio scarlatto, pensò. Sembrava fissare proprio lei, e sentì la pelle d'oca sulle braccia. Il mazzo che Liona aveva messo di lato era solo a qualche centimetro di distanza, e la carta superiore la invitava a sbirciare. La sua mano si avvicinò. Si fermò. solo una sbirciatina, una piccolissima sbirciatina. Prese la carta superiore e guardò. Mostrava una bella donna in abiti viola, con il sole che splendeva sopra di lei, e intorno c'erano un fascio di grano, una cascata e dei fiori. Ai suoi piedi c'erano un leone e un agnello. Ma i suoi capelli erano in fiamme, e anche i suoi occhi erano infuocati, determinati e puntati su un ostacolo lontano. Portava uno scudo d'argento, con al centro un disegno del fuoco, e sulla sua testa c'era una corona che bruciava di colori, come se vi fossero intrappolate delle stelle. Una scritta elaborata in cima alla carta. Diceva l'imperatrice. Suon si permise di attardarsi sulla carta, fino a quando tutti i dettagli non le si furono impressi nella mente. La mise giù, e la carta successiva del mazzo la chiamava. «No, ammoni se stessa, ti sei spinta abbastanza avanti». Poteva quasi sentire su di sé il minaccioso occhio scarlatto del diavolo che la derideva, sfidandola a prendere un'altra carta. Lei la prese. La girò. Si pietrificò. Uno scheletro in armatura sedeva in groppa un cavallo rampante fatto d'ossa. E tra le braccia dello scheletro c'era una falce macchiata di sangue. Quella cosa stava falciando un campo di grano, ma le spighe di grano erano fatte di corpi umani legati insieme, nudi e tremanti, in agonia, mentre erano colpiti dalla falce che calava. Il cielo era del colore del sangue, e in esso dei corvi neri volavano in cerchio sul campo umano di miseria. Era l'immagine più terribile che Suon avesse mai visto, e non dovette leggere la scritta in cima a questa carta per sapere di che si trattasse. «Che cosa stai facendo qua dentro?» La voce la fece saltare in aria di quasi un metro. Si voltò di scatto e c'era Josh sulla soglia. Il suo volto, ricoperto di pelle grigia e bianca e ustioni con croste marroni, era grottesco, ma Suon si rese conto in quell'istante che voleva bene a quel volto, e anche a lui. L'uomo si guardò intorno nella stanza. «Cos'è tutta questa roba?» «È la stanza delle visioni di Liona. Mi stava leggendo il futuro nelle carte». Josh entrò e diede un'occhiata alle carte sul tavolo. «Sono molto belle», disse. «Totte tranne questa». Toccò la carta del diavolo. «Quella mi ricorda un incubo che ho avuto dopo aver mangiato un sandwich con il salame e un'intera scatola di ciambelle al cioccolato». Ancora turbata, Suon gli mostrò l'ultima carta che aveva preso. Lui la prese tra le dita e l'avvicinò alla luce. Aveva già visto dei tarocchi prima, nel quartiere francese a New Orleans. La scritta diceva «morte». «La morte che falcia la razza umana», pensò. Era una delle cose più tetra che avesse mai visto. E nella scarsa luce la falce d'argento sembrava colpire avanti e indietro tra le spighe umane, con il cavallo scheletrico che si impennava mentre il suo cavaliere lavorava sotto il cielo rosso sangue. La gettò sul tavolo e la carta scivolò a metà su quella su cui c'era la demoniaca figura con l'occhio scarlato. «Sono solo carte», disse. «Carte e colori. Non vogliono dire nulla». «Leona ha detto che raccontano una storia». Josh raccolse le carte, formando di nuovo un mazzo e togliendo il diavolo e la morte dalla vista di Suon. «Carta e colori», ripetè. «Tutto qua». Non poterono fare a meno di sentire la tosse rantolante e tormentata di Davy Skelton. Vedere quelle carte, specialmente quella con la triste mietitrice, aveva dato a Josh una sensazione inquietante. Davy emetteva suoni come se stesse soffocando e sentirono Liona cantargli qualcosa, tentando di calmarlo. «La morte è vicina», seppe Josh improvvisamente. «È molto, molto vicina». Uscì dalla stanza delle visioni e camminò lungo il corridoio. La porta della stanza di Davy era socchiusa. Josh pensò che forse poteva essere utile ed entrò nella stanza del malato. Dapprima vide che le lenzuola erano macchiate di sangue. Una lanterna gialla illuminava il volto agonizzante di un uomo, con gli occhi disorientati dalla malattia e dall'orrore, e quando tossiva, dalla sua bocca uscivano grumi di sangue denso e scuro. Josh si fermò sulla soglia. Liona era china su suo marito, con in grembo una bacinella di porcellana e uno straccio bagnato di sangue in mano. Percepì la presenza di Josh, voltò la testa e disse, con tutta la dignità che riuscì a trovare, «Per favore, esci e chiudi la porta». Josh esitò, sbalordito e nauseato. «Per favore», lo implorò Liona, mentre suo marito le tossiva la sua vita in grembo. Uscì dalla stanza e chiuse la porta. In qualche modo si ritrovò di nuovo seduto davanti al camino. Sentì il proprio odore. Puzzava e doveva prendere dei secchi d'acqua dal pozzo, scaldarli sul fuoco e immergersi in quel bagno che non vedeva l'ora di fare. Ma il volto giallo e teso dell'uomo morente nell'altra stanza era nella sua mente e non gli permetteva di muoversi. Ricordò il cadavere che era là fuori, sui gradini del portico di qualcuno, nell'oscurità, che gemeva. L'immagine di quel cavaliere scheletrico che imperversava nel campo di grano di umanità gli era entrata nel cervello. «Oddio», pensò, mentre iniziavano a sgorgare le lacrime. «Oddio, aiutaci tutti». E poi chinò la testa e pianse. Non solo per il suo ricordo di Rose e dei ragazzi, ma per Davis Kelton, Darlene Prescott, la persona morta là fuori nel buio e per tutti gli esseri umani morti e morenti che una volta sentivano il sole sui loro volti e pensavano di vivere per sempre. Pianse. Le lacrime gli scesero lungo la faccia e gocciolarono dal mento e lui non riusciva a fermarsi. Qualcuno gli mise un braccio intorno al collo. La bambina. Swan. Josh la tirò a sé e questa volta fu lei ad abbracciare lui mentre piangeva. Lo tenne strettamente. Voleva bene a Josh e non riusciva a sopportare di sentire i suoi suoni di dolore. Il vento fischiò, cambiò direzione, attaccò le rovine di Sullivan da un'altra angolazione. E in quel vento credette di sentire sussurrare una voce oscura. «Tutto mio». 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 «